C'è stato un gruppo, una band che ci ha ispirato moltissimo ed è giusto, è giustissimo che un artista renda omaggio e tributo a chi prima di lui lo ha ispirato. Lo conoscete sicuramente, il parto delle nuvole pesanti hanno rivoluzionato la musica folk rock alternativa in Italia secondo me. Facciamoci un applauso solo a me. Se ne va solo per la montagna, o lo posevo e non si spagna, se ne si la casquaglia la neva, e lo vento le canta la arsina, se movimenta in un paese, diciamo a me del che si spagna, è giusto, non si spagna, ne si spagna, che si spagna, che si spagna, è giusto,leh misura, se ne si spagna, è giusto, è giusto, non si spagna, ma Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì.